musica 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 che succede se andò? andò moschera, moschitos che succede se andò? non ti vedo tanto bene non può essere così è per tre schiaffi alla prima partita di campionato con l'Ella Severona ma non si può vedere, andò andò, che succede qua? che succede? che fraseggi che... non ho parole non ho parole, veramente sono sono veramente commosso perché non mi aspettavo una prestazione simile da parte del Napoli pensavo veramente sinceramente che avessero la strada in discesa con l'Ella Severona ma evidentemente la discesa era per l'Ella Severona, questo moschera da dove cazzo è uscito non lo so però andò gli hai fatto pure cantare a tutto lo stadio ti hanno preso proprio il culo non ci sono parole ragazzi non ci sono parole sono veramente commosso qualcuno dirà ma tu ancora devi giocare giocherai domani e allora ma intanto il momento bisogna goderselo e come godete sempre voi quando succedono le disgrazie altrui anche io ogni tanto mi prendo le mie soddisfazioni qualcuno dirà eh, ti prendi le soddisfazioni noi vinciamo, qualcuno vince e tu non vinci niente no, 72 trofei in bacheca e vi saluto un grande abbraccio dal vostro nick al prossimo video ciao e mi raccomando iscrizione sempre al canale like al video condividete il più possibile attivate la campanellina così rimanere sempre aggiornati e aggiornati sui miei contenuti ciao le andò che succesca andò non fare così andò non te ne andare non li lasciare mi raccomando iscrizione al canale like al video condividete il più possibile attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e aggiornati sui miei contenuti